Una mamma e un papà? Una mamma e un papà? Uno zio ogni tanto, un fuggirino, ci sto dentro, ma una mamma e un papà. Buonasera, va bene. Abbiamo capito, ma perché non volete che i figli degli omosessuali vengano riconosciuti all'anagrafe? Capiamoci, secondo lei, Bruxelles è lei che deve imporre il concetto di famiglia. E quindi gli svedesi decideranno per la Svezia, i greci decideranno per la Grecia, i portoghesi per la Portogesia. Uno può essere omosessuale, bisessuale, transessuale, pansessuale, vegan sessuale, celiaco sessuale, senza lattosio sessuale, pandistelle sessuale, viva l'amore sempre. E comunque, ma un bimbo deve avere una mamma e un papà. Ma no, deve avere l'amore, il bambino. Eh, vende! Ci sono papà cattivi? Appunto. Sì. Esatto. Ci sono papà che dopo la messa vanno a Troie? Eh, sì. Sicuramente sì. Ci sono papà che vanno anche a trans? Sì. Appunto, vede che... Ci sono mamme che dopo aver visto i papà che vanno con le trans e con le prostitute? Anche loro vanno col prete. Appunto, come vede, eh. La destra ne è piena. E allora vede che il bambino non è un problema di papà e mamma. Però un bambino deve avere una mamma e un papà. Ma perché? Punto. Anche se va con i trans. Deve avere l'amore. Ma l'utero in affitto? Quello no. Ma cosa c'entra adesso l'utero con l'anagrafe ai bambini? Non c'entra niente. La sinistra che vuole l'utero in affitto. Ma non la vuole. E non è... Lo sa quanto costa un utero in affitto a Milano? Ma non c'è. 700 euro per 15 metri quadrati di utero al secondo piano senza ascensore. Ma sta facendo qualcosa però. Posso io far nascere un bambino in un utero senza portineria? Ma cosa sta dicendo? Ma lo sa che oggi tutti gli uteri a Milano sono affittati a Airbnb? Ma cosa c'entra? E non ce ne sono più per gli studenti italiani che per questo non riescono a diventare papà e mamma. Mamma mia. Punto. E quindi non lo dice la religione. Non lo dice il catasto. Il catasto. Lo dice il catasto. Il catasto. Poi i portoghesi decideranno per la portoghese e i francesi per la francesia. Ma ci deve essere una mamma e un papà. Ah basta. Punto. Però scusi Vendo l'ha ricordato a tutti che Gesù è nato in un utero prestato in qualche modo. Lei mi sta parlando forse di Dì? Di Dì? Parliamo di Dì? Dio sì della religione. A parte quello. A parte quello. A parte che quello. Quello. Era un utero della Madonna. E quindi secondo lei tutti gli uteri che ci sono in giro, a parte in portoghese, sono uteri della Madonna. Ma cosa sta dicendo? Ah ma è bene.